Benvenuti nel primo spazio informativo di oggi. La relazione della Commissione Antimafia mette in risalto le deficienze organizzative e gestionali della macchina burocratica. Troppi beni gestiti dallo Stato vanno in fallimento e parecchi sono comunque gestiti dalla mafia. Vediamo il servizio. Nell'isola si trova il 35% dell'intero patrimonio gestito dall'Agenzia dei beni confiscati, 5.677 cespiti in gestione, di cui il 68% già confiscato. Per quanto riguarda le aziende gestite dall'ente, circa il 30% si trova sul suolo siciliano. Ne risultano 780, delle quali solo 39 attive, mentre su 459 destinate solo 11 non sono in liquidazione. Nell'intera provincia di Trapani invece sono 592 gli immobili confessati. Di questi 43 sono mantenuti al patrimonio indisponibile dello Stato e assegnati ad amministrazioni statali per fini istituzionali. 549 sono stati assegnati al patrimonio indisponibile di enti territoriali, in particolare 543 risultano assegnati ai comuni, 34 le forze dell'ordine, 7 a varie amministrazioni statali, 6 alla regione. 8 mesi di lavoro, 71 audizioni. Nella relazione finale si legge che le testimonianze raccolte, i dati analizzati, gli approfondimenti svolti dalla Commissione non lasciano dubbi. La disciplina sul sequestro e la confisca dei beni alle mafie pretende subito un investimento di volontà politica e di determinazione istituzionale che fino ad ora non c'è stato. Insomma, è un sistema, tutto da ripensare. È assente un approccio manageriale da parte dell'agenzia il cui Restart, annunciato dal precedente direttore e il prefetto Frattasi, è rimasto per molti aspetti solo sulla carta. Poca sinergia istituzionale fra i soggetti, cioè l'agenzia, i coadiutori giudiziari, gli enti locali, le prefetture, i tribunali. In provincia di Trapani, come è spiegato dal prefetto, Tommaso Ricciardi, è consistente il numero di beni che restano inutilizzati. La criticità è riconducibile al fatto che spesso e volentieri questi beni necessitano di ingenti interventi di manutenzione o di adeguamento. E questo comporta che la proposizione dei bandi vada deserta. Spesso, inoltre, i comuni non dispongono di adeguate risorse finanziarie da destinare al ripristino e alla valorizzazione di questi beni confiscati. Manca, quindi, un reale sistema di sostegno delle imprese confiscate, spesso disarmate di fronte ai sabotaggi del mercato e al ritorno di fiamma di Cosa Nostra. Troppi i beni immobili che risultano ancora occupati da coloro a cui erano stati confiscati, per lo Stato e la società civile, danno e beffa assieme. Una prassi stanca e poco felice, così la definisce Claudio Fava, l'applicazione della legge Rognoli-La Torre, che negli ultimi anni ha subito una battuta d'arresto. Il lavoro della Commissione, questa relazione, ci consegna una conclusione, che è un sistema che va ripensato, quello sulla gestione dei beni sequestrati e confiscati. Va ripensato e rilanciato il ruolo, le funzioni, la capacità e la qualità dell'intervento dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati. Va potenziato e rilanciato il ruolo degli enti locali. Abbiamo in Sicilia cifre imbarazzanti e preoccupanti sulla mortalità, sul tasso di mortalità delle aziende confiscate, sulla quantità di beni immobili che non vengono assegnati o che restano occupati nella disponibilità di coloro a cui erano stati sottratti. E spesso abbiamo appreso di questa situazione abbastanza incredibile, soltanto attraverso il lavoro volenteroso di monitoraggio che hanno fatto alcune associazioni del terzo settore. Credo che occorra rimettere mano e volontà per ripensare questo sistema. E' la ragione per cui la relazione propone anche alcuni interventi di modifica, sia sulla legislazione ragionale, la regione fa poco e male, sia sul codice antimafia con la legge voto da presentare in Parlamento. A tra poco con tutti gli altri servizi. A scuola al 50%, questa mattina siamo stati al liceo Fardella Ximenez per vedere come si è organizzato l'istituto per il ritorno in classe degli studenti. Erice trova la soluzione, le discrasie sulle zone climatiche, tra valle e vetta al centro dell'attenzione dell'amministrazione ricina. Trovata una soluzione, ora al vaio del ministero competente. Verso il corso di infermieristica, ha siglato l'accordo tra ASPE e Università degli Studi di Palermo per attivare una nuova offerta formativa al polo didattico di Trapani. Servizi sociali e recupero del patrimonio. A Favignana domani mattina arrivano il sottosegretario De Giorgis e il capo della polizia penitenziaria Dino Petralia. Sarà firmato un innovativo protocollo di collaborazione con il comune. Verso l'avviso pubblico, il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, ha convocato per lunedì i cinque pretendenti che puntano alla rinascita del calcio nel capoluogo. Nell'approfondimento delle 14.20 ci sposteremo alla salina Calcara della riserva naturale delle saline di Trapani e Paceco per parlare di un progetto del CNR dedicato alla calendula maritima. Ben ritrovati. Dallo scorso 8 febbraio gli studenti sono tornati a scuola con la modalità del 50%. Noi questa mattina siamo stati all'Istituto Superiore Fardella Ximenes di Trapani per vedere come si è organizzato. Distanziamento tra i banchi e mascherine. Lo scorso 8 febbraio sono tornati a scuola con la modalità del 50% anche gli studenti del Fardella Ximenes di Trapani. L'Istituto Superiore, che conta 64 classi e circa 1.500 alunni dislocati in cinque sedi, ha fatto però una scelta didattica ben precisa. Abbiamo deciso di suddividere le classi e non far entrare le classi in due gruppi, cioè un gruppo a casa e un gruppo a scuola. Per ragioni strettamente didattiche, perché riteniamo che è giusto che il registro delle lezioni sia unico, perché c'è differenza tra la DDI e la lezione in presenza e anche per ragioni tecnologiche perché c'è un aggravio notevole sulla linea quando noi lavoriamo a distanza. Turni di quattro giorni con due classi dove ci sono studenti con bisogni educativi speciali che rimangono sempre in presenza. Le altre 62 classi si alternano su due gruppi. Oggi è il primo giorno del secondo turno, quindi oggi sono presenti i ragazzi che sono stati presenti già il giorno 8 e così continueremo fino al giorno 25. Il giorno 25 vedremo un attimo come è l'andamento del Covid, come è l'andamento all'interno della scuola e decideremo di aumentare, pensiamo di aumentare il numero di ragazzi in presenza fino al 60-70% circa. Tanto per avere un'idea, su 1.500 alunni in questo momento abbiamo a casa, per ragioni di Covid, soltanto 8 alunni. Di questi 8 alunni, 6 sono positivi e 2 sono in isolamento fiduciario da parte dell'ASP. Quindi i numeri sono abbastanza tranquillizzanti. C'è voglia di normalità di vivere la comunità pur comprendendo l'emergenza sanitaria in corso. Nella prima settimana ho fatto un giro per le classi, non tutte, per varie regioni, ma facendo un giro per le classi ho notato che c'è una forte volontà, un forte desiderio dei ragazzi di tornare in classe, di stare con i loro compagni, con i loro professori, di vivere nuovamente la scuola così come è giusto che sia la scuola. La scuola è comunità, è comunità di Ducanta. Tra aule vuote per la DAD e lezioni in presenza siamo stati nella quinta E con la professoressa Rosaria Bonventre che ha tracciato un bilancio di questo particolare momento. È stato veramente un periodo di grande, grande, grande difficoltà e grande impegno da parte di tutti. La scuola in questo secondo me ha dimostrato di essere grande, nonostante tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare di natura tecnica. Io sono soddisfatta dei miei ragazzi. Dalle difficoltà dunque si traggono sempre degli insegnamenti e si cresce. È stato certamente più complicato perché ne risente il rapporto umano tra alunni e professori, però comunque c'è stata un'evoluzione, nel senso che nel momento di difficoltà i professori sono stati anche bravi nell'aiutarci a superare questi momenti. Si è evoluto anche la scuola in sé perché abbiamo dovuto far fronte ad una situazione diversa e quindi utilizzare nuovi strumenti di valutazione, nuove prove. È stato complicato perché comunque diventa alienante a un certo punto, però tutti insieme si può superarlo. Parliamo di economia. La Presidenza della Regione e l'IRFIS finanziano giovani con nuove idee di imprese. Dieci premi da 10.000 euro ciascuno per le migliori idee di imprese presentate da giovani. Questo l'obiettivo del premio La tua idea di impresa in Sicilia, iniziativa che intende finanziare la fase di start-up di nuovi progetti imprenditoriali sviluppati da giovani inoccupati o disoccupati. I vincitori potranno anche usufruire di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo Sicilia ed essere affiancati da personale qualificato dell'IRFIS a titolo gratuito per lo sviluppo dell'idea di impresa. Il regolamento del premio, finanziato con 100.000 euro, 50.000 dalla Presidenza della Regione siciliana e 50.000 dall'IRFIS, è stato presentato questa mattina in conferenza stampa a Palazzo Orlean dal Presidente della Regione, Nello Musumeci, e dal Presidente dell'IRFIS, Giacomo Gargano. È un modo per stimolare la cultura dell'autoimprenditorialità nei giovani, ha evidenziato il Presidente della Regione, Nello Musumeci, parlando di nuove occasioni per fare impresa, creando e promuovendo iniziative innovative, testimoniando un momento di orgoglio dell'appartenenza, dando la possibilità ai giovani di restare in Sicilia, seguire le proprie attitudini e produrre lavoro e reddito. Per concorrere bisogna avere un'età compresa fra i 18 e i 35 anni, essere residenti in Sicilia da almeno sei mesi ed essere inoccupati o disoccupati al momento della presentazione della domanda. La proposta imprenditoriale va descritta con un business plan e può riguardare tutti i settori della produzione o dei servizi. La scadenza per candidarsi è fissata alle ore 12 del 31 maggio 2021. I dieci migliori progetti saranno selezionati da un apposito comitato, composto da tre esperti nominati dal Presidente della Regione entro il 15 giugno 2021. Saranno premiati con un importo di 10.000 euro ciascuno. Il Comune di Erice ha trovato una possibile soluzione per la differenza fra valle e vetta dei parametri di valutazione delle cosiddette zone climatiche. Ascoltiamo il Vice Sindaco Gianni Mauro. Le zone climatiche andavano in un certo senso per quanto riguarda il territorio di Erice così frastagliato, una zona a valle, una zona a metà montagna, diciamo così, una zona in vetta, andavano appunto riviste. L'assessore Gianni Mauro, Vice Sindaco, ci ha messo mani come si vuol dire e forse si riuscirà a trovare una soluzione. Sì, assolutamente, nel senso che le zone climatiche vengono determinate non dal Comune ovviamente, ma dal Ministero e vengono prese come punto di riferimento la quota del Palazzo Municipale. È ovvio che Erice, come tanti altri comuni, che hanno una parte a mare e una parte in altitudine maggiore, hanno lo stesso problema. O sulla scorta di una soluzione che mi sono arrivate, ho cercato di comprendere e capire quale potesse essere il percorso per sistemare questa faccenda, ho avuto contatti con i funzionari dell'Enea, ho proposto una mia soluzione, mi hanno detto che era una proposta ragionevole e abbiamo fatto come Comune gli atti necessari che sono quelli di un decreto da parte del Sindaco dove abbiamo individuato tre zone climatiche, la prima da 0 a 150 metri sul livello del mare che corrisponde alla zona B così come quella di Trapani, la seconda da 150 a 400, zona C così come quella di Valderici e da 400 in poi rimane zona D. Quindi adesso invieremo il decreto all'Enea e al Ministero, entro 90 giorni o avremo delle risposte, ci sarà il silenzio assenso e quindi da quel momento in poi quando avremo la certezza di questo fatto lo renderemo pubblico e diventerà effettivo e quindi si potranno utilizzare quei parametri per tutti i lavori di efficientamento energetico che sicuramente in questo periodo con gli ecobonus saranno attivati dai privati. Sempre a Derice il Comune ha partecipato al Bando Sport nei Parchi 2020 del Lanci, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani che ha come obiettivo la promozione di nuovi modelli di pratica sportiva all'aperto. Si tratta della linea di intervento 2, identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare ad Urban Sport Activity and Weekend, creazione nei parchi cittadini di aree per lo sport, le cosiddette isole dello sport. A tal proposito l'amministrazione comunale ha individuato un'area verde all'interno della Cittadella della Salute dove poter realizzare l'intervento. Facciamo una pausa tra poco. Verso il corso di infermieristica ha siglato l'accordo tra l'ASP e l'Università degli Studi di Palermo per attivare una nuova offerta formativa al polo didattico di Trapani. Servizi sociali e recupero del patrimonio. Favignana domani mattina arriva nel sottosegretario De Giorgis e il capo del DAP, Dino Petralia, sarà firmato un innovativo protocollo di collaborazione con il Comune. Verso l'avviso pubblico, il sindaco Giacomo Tranchida ha convocato per lunedì i cinque pretendenti che puntano alla rinascita del calcio a Trapani. Ben ritrovati. Il rettore dell'Università degli Studi di Palermo, Fabrizio Micari, e il commissario straordinario dell'azienda sanitaria provinciale di Trapani, Paolo Zappalà, hanno siglato un'intesa finalizzata all'attivazione di un canale del corso di laurea in infermieristica al polo didattico di Trapani. Vediamo. La sottoscrizione dell'accordo è volta ad assicurare la disponibilità di tutte le risorse utili al percorso formativo professionalizzante che prevedono il concorso dell'Università per quanto attiene ai compiti didattici e allo svolgimento delle attività frontali presso la sede del polo di Trapani e dell'Asp, con riferimento alla disponibilità di personale e all'utilizzo di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di ulteriori attività formative, anche pratiche e tirocini curriculari. L'intesa, ha rimarcato il professor Fabrizio Micari, rappresenta un'altra concreta azione che rende sempre di più il nostro Ateneo, l'Università di tutta la Sicilia occidentale. Il potenziamento delle sedi decentrate è infatti uno degli obiettivi che ho sempre messo ai primi posti nel corso del mio mandato rettorale, ha commentato il rettore. Questa intesa, con l'Asp, è un ulteriore tassello in cui l'Università degli Studi di Palermo concorre allo sviluppo del territorio trapanese con l'attivazione di un nuovo percorso di studi che risponde alle esigenze formative dei giovani, a cui saranno fornite le conoscenze e le competenze necessarie per l'ingresso nel mondo del lavoro in un settore professionale di enorme importanza. Il commissario dell'Asp di Trapani, Paolo Zappalà, si è detto molto contento perché con questa firma si conclude un percorso che ha visto l'azienda sanitaria provinciale collaborare con l'Università di Palermo per restituire alle ragazze e ragazze della provincia la possibilità di formarsi alla professione di infermiere senza essere costretti a dover andare lontano dal proprio luogo di vita. Zappalà si è detto certo che contribuirà anche alla crescita occupazionale e allo sviluppo dei servizi sanitari dell'intero territorio provinciale. Un protocollo tra Comune e DAP verrà firmato domani mattina a Favignana. Saranno presenti il sottosegretario onorevole Andrea De Giorgis e il capo del DAP, Dino Petralia. La cerimonia si terrà alle 12 a Palazzo Florio. Si tratta di un importante passo avanti nella gestione moderna dei detenuti ai quali saranno affidati servizi sociali. Ascoltiamo Chico Veneziano del sindacato UIL Polizia Penitenziaria. Questo protocollo consentirà il ripristino del vecchio castello di San Giacomo che fino a poco tempo fa era il carcere di Favignana. Ma soprattutto consentirà il mandato istituzionale dell'amministrazione penitenziaria, cercare di recuperare il detenuto tramite il lavoro. Questa iniziativa è stata fortemente voluta dal capo del Dipartimento Petralia e dal sindaco Forgione, appoggiata anche dal sindacato, perché innalza anche le competenze della Polizia Penitenziaria non relegata all'interno delle carceri, ma anche a vigilare sul lavoro esterno dei detenuti. Possiamo parlare di una nuova dimensione? Questo è un percorso dell'area penale esterna che dovrà arrivare la Polizia Penitenziaria al controllo del territorio all'esterno e questo credo sia il secondo step rispetto al primo che è di pertenenza degli uffici di esecuzione penale esterna. Si è spento all'età di 84 anni Umberto Pace che era ricoverato all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani da alcuni giorni per l'aggravarsi di una malattia allo stadio terminale. Trapanese, commerciante, figlio di commercianti, era molto noto in città anche per la sua attività politica e sindacale. È stato il presidente della Confesercenti per gran parte degli anni Ottanta. Teneva a bottega in via Torre Arsa. Umberto Pace fu molto attivo nel centro storico e nell'impegno per la sua rivitalizzazione organizzatore di eventi e iniziative. Il suo negozio era anche ritrovo per lunghe discussioni sulla politica frequentato da esponenti di ogni partito, uniti dall'eleganza nel vestire, divisi dalle opinioni che amavano dibattere. Ma gli amici, quelli che lo conoscevano da una vita, sapevano che la sua vera grande passione non era stata la politica che pure ha praticato con certo impegno, ma l'arte. La programmazione di oggi sulla nostra emittente alle 15.15 trasmetteremo l'incontro di serie B di palla a mano Masca-Lucia-Aretusa e alle 20.30 e alle 23 la sfida di basket di serie 2 Old Wild West, 2 B-Control Trapani, 9 più Casale-Monferrato. Vi ricordo sempre il nostro sito internet, telesudweb.it. Adesso diamo uno sguardo al meteo e poi noi ci ritroviamo con lo sport. Nel pomeriggio di oggi è previsto cielo sereno con vento da nord-ovest e mare quasi calmo. Le temperature saranno comprese fra i 12 e i 13 gradi. In serata ancora ha previsto cielo sereno con mare poco mosso e vento da nord-est. Le temperature rimarranno stabili sui 10 gradi. Per domani mattina è previsto ancora cielo sereno e mare poco mosso. I venti soffieranno da nord-est e le temperature saranno comprese fra i 12 e i 14 gradi. Il sindaco Giacomo Tranchida ha convocato per lunedì i 5 pretendenti che puntano alla rinascita del calcio a Trapani. Il servizio di Federico Tarantino. Cinque destinatari ben precisi ed un appuntamento per lunedì 22 febbraio alle 15 e 30 nella sala Fulvio Sodano del comune di Trapani. Così si è mosso il sindaco Giacomo Tranchida che ha inviato una lettera a coloro i quali hanno presentato una manifestazione di interesse per l'assegnazione del titolo sportivo. Gli invitati alla riunione sono Renato Picciotto, Ettore Minore, Carmelo Castelli, Roberto Lio e Francesco Di Deco. L'incontro si terrà in presenza con l'adozione di tutte le misure di prevenzione dal contagio, ma per coloro che per motivi diversi non potessero partecipare verrà attivato collegamento online con il link riservato che sarà inviato esclusivamente agli indirizzi forniti. Alla corsa del Trapani si aggiungono quindi nuovi pretendenti. I ruoli di Renato Picciotto, Ettore Minore e Carmelo Castelli erano stati già definiti in precedenza. Francesco Di Deco è invece un avvocato che nel mese di settembre rappresentò Simone Pillisio che, come ascoltato telefonicamente, potrebbe essere interessato a valutare i requisiti della nuova società. Del tutto nuovo invece è il nome di Roberto Lio che potrebbe avere la delega di un ulteriore concorrente. Nelle scorse settimane un imprenditore serbo si sarebbe avvicinato al nuovo sodalizio trapanese. La presenza degli invitati alla riunione però è tutt'altra che scontata. Ognuno sembra intenzionato a proseguire per la propria strada e difficilmente si giungerà ad un accordo che possa prevedere i cinque soggetti riunirsi in un'unica realtà. Lunedì pomeriggio quindi si potrebbe uscire anche con un nulla di fatto, con l'avviso pubblico la cui bozza è già pronta, che si avvicina. Un atto che sarà aperto anche ad altri eventuali pretendenti che vogliano investire nel mondo del calcio a Trapani. Alla base dell'avviso pubblico che segnerà la ripartenza della Serie D sarebbe richiesta una società legata al territorio trapanese, con forti richieste di garanzie economiche di chi vorrà intraprendere l'avventura in Granata. Renato Picciotto appare in poll per la ripartenza della Maglia Granata. Il suo nome, quello che chiede la tifoseria e l'investimento dell'imprenditore nell'edificio che per decenni ospitò la Banca d'Italia, ne è certamente una prova. La pallacanestro Trapani è in campo per affrontare la 9 più Casale Monferrato. Vediamo. È iniziata da pochi minuti la partita di Serie A2 All the Wild West della pallacanestro Trapani. I Granata ospitano al Palacona della 9 più Casale Monferrato per il recupero della seconda giornata d'andata del campionato. Una gara in cui gli uomini di coach Daniele Parente sono alla ricerca della conferma, dopo aver vinto i confronti con Tortone e Piacenza. Una partita in cui la 2B Control parte con i favori del pronostico, considerato il momento assai delicato dei piemontesi. L'allenatore Mattia Ferrari si è dimesso la scorsa settimana e in più devono fare i conti con l'assenza di Redivo, uno dei migliori giocatori della competizione, tanto da conquistare l'argento olimpico nel 2016 a Rio. Nelle fila dei trapanesi è presente anche Gabriele Spizzichini, che però non è partito nel quintetto titolare ed il cui utilizzo in campo potrebbe essere ancora limitato. Nella gara disputata a fine gennaio la pallacanestro Trapani perse il confronto, una partita da dove però i Granata sono poi ripartiti nonostante la sconfitta e che adesso puntano alla chiusura della stagione regolare nel migliore dei modi. In questi giorni alla Salina Calcara e in altri siti trapanesi di interesse naturalistico, tra i quali il litorale del Ronciglio e la Tonnara di San Giuliano, sono in corso delle attività che puntano a preservare la calendula marittima. Ce ne parla Mario Torrente. La calendula marittima è una rarissima specie erbacea endemica, sopravvissuta solo in alcuni tratti di litorale della provincia di Trapani e da rischio di estinzione. Per preservare questa pianta è stato lanciato il progetto Life Calmarsi, che vede in prima linea il Consiglio Nazionale delle Ricerche e dove è coinvolto anche il WWF, ente gestore della riserva delle saline di Trapani e Paceco, tra i siti Natura 2000 dove è presente la calendula. Ed in questi giorni alla Salina Calcara sono in corso le operazioni di piantumazione di questa pianta, un esempio di biodiversità tutelato con una legge regionale varata due anni fa. Oggi ci troviamo qui perché nell'ambito di un progetto Life di conservazione, finanziato con dei fondi comunitari, di cui l'ente promotore è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, proprio in questo sito si sta piantumando la specie. Questo è un sito nuovo dove si sta intervenendo, piantando della calendula marittima. All'interno della riserva l'unico sito in cui è presente, o meglio era presente, fino a poco tempo fa la calendula, era il litorale Ronciglio. Nell'ambito del progetto Life è stata rafforzata questa popolazione di Ronciglio e per quanto riguarda l'isola della Calcara invece sono stati fatti questi interventi di piantumazione della specie. Quindi questo è un grande progetto che ha un valore ambientale enorme, anche perché si è realizzato con la collaborazione dell'ente gestore della riserva, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, ma anche con la collaborazione dei privati, perché la Salina Calcara è un'area privata e i proprietari di questo fondo hanno capito l'importanza di mettersi a disposizione per implementare anche la biodiversità presente nella loro proprietà. La calendula marittima è considerata una specie in pericolo critico di estinzione ed è stata inserita nella lista delle 50 specie botaniche più minacciate del Mediterraneo. Il progetto è nato dalla consapevolezza dell'esistenza di questa specie che è estremamente rara su scala globale. Praticamente pochissime popolazioni di calendula marittima sono state rinvenute soltanto lungo alcuni pezzetti del litorale del Trapanese e in qualche isolotto di fronte a Trapani. Si tratta appunto di una specie estremamente rara e a grave rischio di estinzione ed è censita dalla Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, la UCN, come una delle 50 piante a più grave rischio di estinzione delle isole del Mediterraneo. In virtù di questo abbiamo deciso di promuovere questo progetto che è stato presentato nell'ambito del programma LIFE della Commissione Europea, dell'Unione Europea. È stato finanziato e adesso stiamo portando avanti tutte le attività previste da questo progetto. Il progetto è stato presentato dal CNR come capofila, ma abbiamo anche il partenariato con il Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana. Ben ritrovati con la seconda edizione che apriamo con la cronaca. Evade dai domiciliari e viene arrestato dai carabinieri. È successo a Trapani. Il servizio. I carabinieri della stazione di Erice hanno arrestato un trapanese, noto alle forze dell'ordine a causa dei suoi precedenti penali, poiché è ritenuto responsabile del reato di evasione. L'uomo, nonostante fosse sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, dovendo scontare una pena per reati contro il patrimonio, è stato sorpreso dai carabinieri che stavano svolgendo un servizio perlustrativo del territorio, mentre camminava in via Vespri a Trapani. L'uomo, alla vista dei militari, ha cambiato repentinamente direzione di marcia nel tentativo di passare inosservato, ma è stato immediatamente riconosciuto dagli operanti che, dopo averlo raggiunto, hanno constatato che non era in possesso di alcuna autorizzazione né giustificato motivo per trovarsi fuori casa, oltretutto a diversi chilometri di distanza dalla propria abitazione. Per tale motivo l'uomo, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto. Nella giornata di ieri si è svolto il rito per direttissima, che oltre a convalidare l'operato dei militari dell'arma, ha disposto il ripristino della misura della detenzione domiciliare cui era già sottoposto. È un quadro preoccupante quello che emerge dalle 190 pagine della relazione della Commissione regionale antimafia sulla gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. I numeri sono severi. Nell'isola si trova il 35% dell'intero patrimonio gestito dall'Agenzia dei beni confiscati, 5.677 cespiti in gestione, di cui il 68% già confiscato. Per quanto riguarda le aziende gestite dall'ente, circa il 30% si trova sul suolo siciliano. Ne risultano 780, delle quali solo 39 attive, mentre su 459 destinate solo 11 non sono in liquidazione. Nell'intera provincia di Trapani invece sono 592 gli immobili confessati. Di questi, 43 sono mantenuti al patrimonio indisponibile dello Stato e assegnati ad amministrazioni statali per fini istituzionali. 549 sono stati assegnati al patrimonio indisponibile di enti territoriali. In particolare, 543 risultano assegnati ai comuni. 34 le forze dell'ordine, 7 a varie amministrazioni statali, 6 alla Regione. 8 mesi di lavoro, 71 audizioni. Nella relazione finale si legge che le testimonianze raccolte, i dati analizzati, gli approfondimenti svolti dalla Commissione non lasciano dubbi. La disciplina sul sequestro e la confisca dei beni alle mafie pretende subito un investimento di volontà politica e di determinazione istituzionale che fino ad ora non c'è stato. Insomma, è un sistema, tutto da ripensare. È assente un approccio manageriale da parte dell'agenzia, il cui restart annunciato dal precedente direttore e il prefetto Frattasi è rimasto, per molti aspetti, solo sulla carta. Poca sinergia istituzionale fra i soggetti, cioè l'agenzia, i coadiutori giudiziari, gli enti locali, le prefetture, i tribunali. In provincia di Trapani, come spiegato dal prefetto, Tommaso Ricciardi, è consistente il numero di beni che restano inutilizzati. La criticità è riconducibile al fatto che spesso e volentieri questi beni necessitano di ingenti interventi di manutenzione o di adeguamento e questo comporta che la proposizione dei bandi vada deserta. Spesso, inoltre, i comuni non dispongono di adeguate risorse finanziarie da destinare al ripristino e alla valorizzazione di questi beni confiscati. Manca, quindi, un reale sistema di sostegno delle imprese confiscate, spesso disarmate di fronte ai sabotaggi del mercato e al ritorno di fiamma di Cosa Nostra. Troppi i beni immobili che risultano ancora occupati da coloro a cui erano stati confiscati, per lo Stato e la società civile, danno e beffa assieme. Una prassi stanca e poco felice, così la definisce Claudio Fava, l'applicazione della legge Rognoli-La Torre, che negli ultimi anni ha subito una battuta d'arresto. Il lavoro della Commissione, questa relazione, ci consegna una conclusione, che è un sistema che va ripensato, quello sulla gestione dei beni sequestrati e confiscati. Va ripensato e rilanciato il ruolo, le funzioni, la capacità e la qualità dell'intervento dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati, va potenziato e rilanciato il ruolo degli enti locali. Abbiamo in Sicilia cifre imbarazzanti e preoccupanti sulla mortalità, sul tasso di mortalità delle aziende confiscate, sulla quantità di beni immobili che non vengono assegnati o che restano occupati nella disponibilità di coloro a cui sono stati sottratti. E spesso abbiamo appreso di questa situazione abbastanza incredibile, soltanto attraverso il lavoro volenteroso di monitoraggio che hanno fatto alcune associazioni del terzo settore. Credo che occorra rimettere mano e volontà per ripensare questo sistema. È la ragione per cui la relazione propone anche alcuni interventi di modifica sia sulla legislazione ragionale, la regione fa poco e male, sia sul codice antimafia con la legge vuoto da presentare in Parlamento. Dallo scorso 8 febbraio gli studenti sono tornati a scuola con la modalità del 50%. Noi questa mattina siamo stati all'Istituto Superiore Fardella Ximenese di Trapani per vedere come si è organizzato. Distanziamento tra i banchi e mascherine. Lo scorso 8 febbraio sono tornati a scuola con la modalità del 50% anche gli studenti del Fardella Ximenese di Trapani. L'Istituto Superiore, che conta 64 classi e circa 1.500 alunni dislocati in 5 sedi, ha fatto però una scelta didattica ben precisa. Abbiamo deciso di suddividere le classi e non far entrare le classi in due gruppi, cioè un gruppo a casa e un gruppo a scuola. Per ragioni strettamente didattiche, perché riteniamo che è giusto che il registro delle lezioni sia unico, perché c'è differenza tra la DDI e la lezione in presenza, e anche per ragioni tecnologiche, perché c'è un aggravio notevole sulla linea quando noi lavoriamo a distanza. Turni di quattro giorni, con due classi dove ci sono studenti con bisogni educativi speciali che rimangono sempre in presenza. Le altre 62 classi si alternano su due gruppi. Oggi è il primo giorno del secondo turno, quindi oggi sono presenti i ragazzi che sono stati presenti già il giorno 8, e così continueremo fino al giorno 25. Il giorno 25 vedremo un attimo come è l'andamento del Covid, come è l'andamento all'interno della scuola, e decideremo di aumentare, pensiamo di aumentare il numero di ragazzi in presenza fino al 60-70% circa. Tanto per avere un'idea, su 1.500 alunni, in questo momento abbiamo a casa, per ragioni di Covid, soltanto 8 alunni. Di questi 8 alunni, 6 sono positivi, e 2 sono in isolamento fiduciario da parte dell'Asp. Quindi i numeri sono abbastanza tranquillizzanti. C'è voglia di normalità di vivere la comunità, pur comprendendo l'emergenza sanitaria in corso. Nella prima settimana ho fatto un giro per le classi, non tutte, per varie regioni, ma facendo un giro per le classi, ho notato che c'è una forte volontà, un forte desiderio dei ragazzi di tornare in classe, di stare con i loro compagni, con i loro professori, di vivere nuovamente la scuola così come è giusto che sia la scuola. La scuola è comunità, è comunità di Ducanta. Tra aule vuote per la DAD e lezioni in presenza, siamo stati nella quinta E con la professoressa Rosaria Bonventre, che ha tracciato un bilancio di questo particolare momento. È stato veramente un periodo di grande difficoltà e grande impegno da parte di tutti. La scuola in questo secondo me ha dimostrato di essere grande, nonostante tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare di natura tecnica. Io sono soddisfatta dei miei ragazzi. Dalle difficoltà dunque si traggono sempre degli insegnamenti e si cresce. È stato certamente più complicato perché ne risente il rapporto umano tra alunni e professori, però comunque c'è stata un'evoluzione, nel senso che nel momento di difficoltà i professori sono stati anche bravi nell'aiutarci a superare questi momenti. Si è evoluto anche la scuola in sé perché abbiamo dovuto far fronte ad una situazione diversa e quindi utilizzare nuovi strumenti di valutazione, nuove prove. È stato complicato perché comunque diventa alienante a un certo punto, però tutti insieme si può superarlo.